Crisi migratorie ed emergenza profughi in Siria, questi temi al centro dei colloqui ad Ankara fra Angela Merkel e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La visita in Turchia della cancelliera tedesca, che ha incontrato anche il premier Ahmed Davutoglu, aveva come principale punto all'ordine del giorno l'attuazione dell'accordo di fine novembre fra Bruxelles ed Ankara per ridurre il flusso dei migranti diretti in Europa. Alla prossima riunione della Nato, la Turchia e la Germania chiederanno agli alleati un maggiore aiuto nel controllo dei flussi migratori, in particolare affinché i meccanismi di controllo della Nato vengano utilizzati in modo più efficace al nostro confine con la Siria e nel mare Egeo. Bruxelles ha messo sul tavolo 3 miliardi di aiuti destinati alla Turchia, che dice di essere arrivata al limite massimo di accoglienza con oltre 2 milioni e mezzo di profughi. La cosa importante per tutti noi è che se vogliamo fermare l'immigrazione clandestina dobbiamo essere pronti ad accettare i rifugiati con mezzi legali, in particolare i siriani. Proprio in questi giorni la Turchia affronta una nuova emergenza con circa 35.000 siriani provenienti da Aleppo ammassati alla frontiera. La Turchia accusa la Russia di essere all'origine di questa nuova crisi, visti i bombardamenti proprio su quella zona. Grazie a tutti, grazie a tutti.